Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Rita e oggi ho per voi un wrap up un po' misero. Sfortunatamente nel mese di febbraio non ho letto tantissimo perché sono andata in blocco del lettore, in ridi slump, ho avuto un blocco del lettore che persiste ancora adesso, che siamo al 3 di marzo. Io spero mi passi prestissimo. Nel mese di febbraio ho letto un ebook per la nuova attività che sta svolgendo tramite internet e che era un libro riferito al network marketing, che è stato interessante, molto scorrevole, molto semplice, però appunto credo sia stato questo a mandarmi in ridi slump purtroppo, perché non essendo il mio genere mi ha un po' annoiata nonostante appunto l'argomento mi servisse. Vi lascio qui la copertina, dovrebbe chiamarsi la presentazione a 45 secondi e se a qualcuno servisse e interessasse, qui c'è il libro. Dopodiché ho continuato la mia lettura di Shadowfairz, che mi sta piacendo, ma come potete vedere non ho finito, di Betsy Ravis, il terzo e ultimo capitolo di Across the Universe, e io spero di finirlo entro marzo, perché appunto sono andata in ridi slump e non sono più riuscita ad andare avanti, purtroppo. Dopodiché grazie a Dio ho letto due graphic novel che però mi hanno accompagnato per qualche ora, in un giorno, insomma, quindi capite bene che ho letto gran poco e di questa cosa mi dispiace tantissimo, perché gennaio ero partita, avevo letto ben dieci libri e invece a febbraio ne ho letto mezzo. La prima graphic novel che ho letto è stata Non sei mica il mondo di Raffaele Jeffrey, di cui ve ne ho già parlato qui nelle schede, quindi ve ne ho già parlato nella recensione che vi lascio qui nelle schede, che mi ha mandato la Tunue e vi lascio un'anteprima delle tavole, perché insomma meritano, anche se purtroppo non mi è piaciuto tantissimo, mi ha un pochino buttato giù il morale, ecco, avevo bisogno di qualcosa di più, ve ne parlo nella recensione, quindi andate a vederla. Dopodiché ho letto L'uomo a montagna di Gautier e Fleche, che sono due autrici francesi, la Fleche io le adoro, ne ho già letto due graphic novel che ve ne ho già parlato, e vi lascio sempre qui nelle schede della recensione, e questo mi è piaciuto veramente tantissimo, unica pecca, è formato mini, sono neanche 40 pagine, quindi sono 42 pagine, mi è dispiaciuto tantissimo, ma i disegni sono bellissimi. Anteprima, tada! Passando alla parte del book haul, io di mio ho comprato un libro, innanzitutto, anzi, due novelle, ovvero la prima e la seconda novella della moglie del califo che potete trovare su Amazon, io le ho scaricate per Kindle, ma credo esistano anche per Kobo, quindi, e anche per Tolino, e dovrebbero costare, credo, 90 centesimi l'una, o essere gratuite, ma alzio le mani perché non mi ricordo, perché quel mese avevo attivato Kindle Unlimited, che poi l'ho tolto. Aggiunti mi ha mandato in ebook Rebel, il tradimento, il secondo capitolo di Rebel, di Halloween Hamilton, che mi sta piacendo tantissimo e ve lo consiglio a tutti il primo, un distopico ambientato nel deserto, meraviglioso. Per passare alla parte cartacea, invece, a queste due graphic novel che mi ha mandato la Toonway, io ringrazio sempre tantissimo per chi mi manda delle chicche veramente stupende, ho comprato un solo libro cartaceo perché era in offerta ad Amazon a 6,50€ circa, e non so se sia ancora in offerta, in ogni caso, ora ve lo faccio vedere. Il libro è A World Without You, di Beth Revis, un contemporaneo che secondo me ha una trama molto particolare, molto carina, perché parla di questo ragazzo che ha 17 anni, che però ha una problematica mentale, diciamo, lui è convinto di poter viaggiare nel tempo. I suoi genitori, dopo che capiscono che questa non è una cosa di infanzia, ma persiste anche nell'adolescenza, decidono di portarlo in un istituto, in una scuola speciale per persone come lui, dove incontrerà un'altra ragazza che lei crede di avere il super potere, di poter essere invisibile. A questo punto i due faranno amicizia, si conosceranno, però la ragazza purtroppo si toglierà la vita, ma lui, boh, il nostro protagonista, è convinto che lei non si sia veramente tolta la vita, ma sia ancora viva e sarà una ricerca appunto di questa ragazza. Non so altro, spero mi piaccia, Beth Revis, io l'ho amata per Across the Universe, e sto leggendo il terzo capitolo di Across the Universe, quindi speriamo, insomma, che sia un bel contemporaneo. Dopodiché, Eris Edizioni, una casa editrice di Graphic Love, mi ha mandato ben due fumetti, due anteprime, due segnalibri e anche un cartoncino con scritto grazie per il supporto, e il mio nome è stato troppo bello vedere tutte queste cosine dentro al pacchetto. Le due anteprime sono queste, Lucia Biagi e Challenger di Gulliam Lopez, ehm, Lopez, sì, Lopez, ok. E questo dovrebbe uscire tra poco, questo non lo so, però ispirano, specialmente questo mi ispira tantissimo, perché tutto il fumetto è in questi colori verde e viola. E per restare sempre in tema verde e viola mi hanno mandato E così conoscerai l'universo di Day, che devo ancora leggere, lo leggerò in questi giorni, e le tavole sono appunto tutte in verde e viola, e sono bellissime. Non vedo l'ora di leggerlo, secondo me è spettacolare. Ultimo fumetto che mi hanno mandato, Dressing, di Michael The Forge, sempre su mia richiesta, entrambi, ve li metto comunque qui sotto, non so benissimo di che cosa parlino, però ne avrete, ne saprete di più anche voi, nelle prossime wrap-up o recensioni, sicuramente recensirò questi due fumetti. Purtroppo il video finisce già qui, scusatemi se ho parlato un po' in fretta, ma avevo già girato questo video e rigirarlo, diciamo che mi scocciamo un po', però l'ho fatto, sia per me che per voi. E non sto comprando molti libri in questo periodo, perché dobbiamo cambiare casa, purtroppo, e non per la nostra scelta, e in più voglio comprarmi una macchina fotografica nuova con lo schermo dove mi vedo, e altre cose in più, e quindi sto cercando di risparmiare un po' per questa cosa e altre. Quindi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, iscrivetevi qui sotto, cliccate la campanellina se volete restare sempre aggiornati ai miei video, mettete un mi piace a questo video se vi è piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!